Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per questo invito, grazie ai colleghi che sono qui con me, grazie a tutti voi. Credo che tutti voi sappiate che il libro Arbitro è stata definita, si sente bene? Sì, è stata definita una delle questioni filosofiche più rognose che mai si è stata prodotta. Questo tipo di classificazione risale allo scozzese David Hume, il quale peraltro non credeva nel libro Arbitro. Ed è una tradizione molto complessa, io dico, nelle culture occidentali, che è un discorso che già emerge in testi classici, già emerge con l'atomismo antico, si ritrova nelle filosofie ellenistiche, segnatamente nello stoicismo. Una grande serie di argomenti pro e contro il libro Arbitro si ritrovano nel defatto di Cicerone. Insomma, c'è una larga casistica. Il fatto non si capisce bene cosa sia, è comunque qualcosa che va al di sopra e al di là delle volontà, sia dei mortali che degli immortali. Ma uno potrebbe pensare che col monoteismo le cose si semplifichino perché in un qualche modo un Dio solo, forse è più semplice da ammettere di molti dèi, anche se, come credo voi tutti sappiate, l'idea di un Dio che è onnisciente e onnipotente, se è onnisciente e onnipotente difficilmente non conosce cosa fanno gli esseri umani o anche le più semplici entità del vivente. E quindi se non interviene vuol dire che vuole che le cose vadano come vadano, no? L'argomento che io qui ho esposto in maniera così rozza è ben presente nei testi della patristica e in particolare in Agostino di Ippone, ma questo tipo di problema è un problema che è stato esasperato sempre di più, man mano che può sembrare paradossale ci avviciniamo alla nostra modernità. Questo può essere appunto curioso, ma se uno va a vedere il grande dibattito tra Martini Lutero e l'asmo da Rotterdam, del servo arbitrio contro del libero arbitro, trova appunto il fatto che se Dio è assolutamente onnipotente e onnipresente, la volontà dell'arbitro dell'uovo non può che essere chinato, prono alle disposizioni divine. Più radicale ancora di Martini Lutero è il riformatore di Ginevra Giovanni Calvino, in cui dobbiamo una formidabile teoria della predestinazione, che si basa non tanto, attenzione, sull'onnipotenza di Dio, ma sull'assoluta libertà di Dio. Siccome Dio è assolutamente libero, può di conseguenza salvare o annientare chi vuole e il cristiano ha tutta la convenienza a non porre troppe domande su questo punto, ma a sottomettersi alla volontà divina. Posizione estremamente radicale, come voi potete capire, che viene in un qualche modo laicizzata all'inizio della scienza moderna. La scienza moderna, diciamo da Galileo Galilei in poi, ha a che fare con alcune descrizioni dei fenomeni che chiamiamo tecnicamente sistemi dinamici, nei quali la legge dell'evoluzione del sistema e la conoscenza delle condizioni iniziali permette di prevedere in linea teorica lo sviluppo successivo di tutto il sistema. Quando dico permette di prevedere, lo permette di prevedere non a un essere umano, ma a un Dio matematico perfettamente in grado di manipolare qualunque equazione differenziale. Galileo si era limitato a proiettili, caduta delle pietre, che Plero estende questo modello alle orbite dei pianeti. Newton presenta una formulazione che si può leggere come deterministica. Il determinismo delle leggi fisiche è sostanzialmente affermato da filosofi o uomini di scienza come Pierre-Simon de Laplace, matematico e astronomo, o John Stuart Mill, filosofo ed economista. In questa situazione uno si domanda che ne è allora del libero arbitrio. Il problema è posto drammaticamente, come credo voi tutti sappiate, da Immanuel Kant nella parte finale della sua critica della ragione pura, quando Kant si domanda da una parte l'essere umano è un pezzo di natura e come tale è sottoposto al determinismo delle leggi fisiche. Dall'altra parte non può che essere considerato come una sorgente di azione libera. E allora quale delle due prevale? La legalità delle leggi fisiche, da una parte, oppure questa facoltà anarchica della coscienza, come la chiama Kant, che potrebbe essere o dovrebbe essere il fondamento della morale. Problema anche questo che Kant dall'altro lascia aperto, perché non risolve una volta per tutte, lo lascia in eredità a chi lo continua su questa strada nell'Ottocento. Pensate per esempio alla battuta di Federico Nice, durissima, che sostiene che la dottrina del libero arbitrio non è altro che un'impostura creata apposta per poter maltrattare i propri simili in modo che li colpevolizziamo e poi dopo li possiamo anche punire. La chiama Federico Nice la metafisica del boia. Se la prende con il cristianesimo, che ha più volte sottolineato l'importanza del libero arbitrio, e se la prende anche con la filosofia classica da Platone fino a Kant e il medesimo. Forse Nice è un po' esagerato in questa sua valutazione, perché per esempio, come vi dicevo prima, la impostazione di una certa parte del cristianesimo, in particolare quella dei padri della riforma, è diversa dalla difesa del libero arbitrio. il padre, lei sa qualcosa e sa meglio di me, appunto ricordavo prima la coerenza spietata della dottrina calviniana della predestinazione. Nel campo filosofico più stretto, forse una delle posizioni più interessanti è quella del filosofo di origine ebraica Benedetto Spinoza, che nella sua etica sostiene che quella del libero arbitrio è un'illusione dovuta però a uno scarto cognitivo di coloro che sostengono codesta dottrina. Le persone hanno il sentimento del libero arbitrio semplicemente perché conoscono gli effetti delle loro azioni, ma non conoscono le cause. Se noi avessimo una conoscenza adeguata di come siamo fatti, ci renderemmo conto che le azioni che noi consideriamo arbitrarie sono in realtà fortemente motivate da una catena causale e quindi sotto questo profilo non siamo liberi. Siamo un po' come una pietra, la quale è in caduta libera, nel senso che non ha vincoli, che la fermo nella sua caduta, ma appunto crede di poter cadere liberamente, ma semplicemente perché non sa che è immersa in un campo gravitazionale. Questo tipo di impostazione oggi è stata continuamente mutata, modificata, eccetera, invece di guardare come modello le equazioni differenziali e alla fisica, oggi si guarda forse di più alla biologia e c'è sempre quello che dice io ho rubato, sì signor giudice, ho ucciso, sì signor giudice, ho truffato, sì signor giudice, ma non se ne ero io, erano i miei geni che hanno deciso per me. Questo tipo di scusante che annulla evidentemente una forma di responsabilità personale è stato tra l'altro più volte già ventilato in alcuni processi negli Stati Uniti. Come vedete quindi le posizioni sono varie e complesse, personalmente io non ho un'opinione, io dicevo discutendo prima con gli amici, non ho un'opinione definita su questo argomento, preferisco assumere però un'altra posizione che è una posizione del tipo se allora, e spiego cosa voglio dire, e poi dopo lo tengo il resto per la successiva racchiacchierata. Io ho la sensazione che in qualche senso di libero orbitro si possa mantenere anche se uno ammette delle forme molto rigide di determinismo. Le forme rigide di determinismo sono essenziali per fare scienza ovviamente, non si farebbe né fisica, né chimica, né biologia senza un certo forma di determinismo, uno può dire ma la meccanica quantistica è indeterminista, anche lì calma perché l'equazione di Schrödinger è comunque un'equazione differenziale e ha bisogno delle opportune condizioni al limite per poter funzionare. Allora, la questione che a me sembra interessante è la seguente, non tanto assumere in sé, se esista o non esista il libero orbitrio, se tutto si è determinato o no, questa discussione un po' metafisica sia dall'una che dall'altra parte, ma mettersi in un'ottica che secondo me è quella che noi desumiamo dalle opere soprattutto politiche di Benedetto Spinoza. E cioè, se anche, avesse o ragione, i deterministi più radicali, e oggi ci sono delle esperienze come quelle di Benjamin Libet che sembrano andare in questa direzione, anche se il costoro avesse o ragione, ha ancora senso parlare di una libertà degli individui, libertà che va intesa come libertà esterna, non interna, e cioè, un conto essere determinato dalla mia natura interna, se preferite dal mio DNA, se volete essere brutalmente riduzionisti, un conto invece è essere determinati determinati dal DNA di qualcun altro. Questa distinzione tra libertà interna e esterna non è nuovissima, risale, come vi dicevo prima, a David Hume, stata poi ripresa da due grandi filosofi britannici anche loro, cioè da John Stuart Mill e dal suo figlioccio Bertrand Russell, ed è una nozione di libertà secondo me è estremamente interessante. Faccio un esempio e poi chiudo, che è così, ho esaurito il mio tempo, l'esempio è molto breve, supponiamo che uno, Dio non voglia, decida di suicidarsi. Allora, è diverso, se uno prende un pugnale e, stravolto dalle più terribili passioni, o dalle sue inclinazioni, o dalla sua eredità genetica, quello che volete, lo prende, se lo punta al cuore, e un conto è se la persona che si suicida viene suicidata, tra virgolette, in questo modo, cioè arriva un soldataccio, prende del pugnale, glielo mette in mano, gli piega la mano e la dirige contro il petto del malcapitato, come capitava spesso nell'impero romano dove le esecuzioni dei dignitari erano fatte in questo modo. Ecco, nel primo caso direi che c'è stata una libertà dell'individuo di scegliere una dipartita da questa vita, per quanto orribile e irrazionale sia, però adeguata, nel senso che è stato lui, soltanto lui, la causa del processo che culmina nel suo suicidio. Mentre nell'altro caso non è la mia DNA o i miei neuroni che hanno deciso che io mi uccidessi, ma sono stati il DNA o i neuroni di qualcun altro. Allora, io sono portato a definire la libertà come libertà esterna, molta di questa libertà esterna ha gli aspetti del libero arbitro tradizionale, non credo che sia necessario andare a postulare un atto totalmente arbitrario fatto da qualunque soggetto di un corso d'azioni, ma basta semplicemente vedere come il tipo di azione di un individuo sia sottoposto o meno a vincoli esterni. Più si riducono i vincoli, più una persona è sotto questo profilo libero. Ma attenzione, non pensiamo che la libertà sia completa assenza di vincoli, perché senza isole di determinismo non sapremmo assolutamente che cosa fare, non potremmo nemmeno dare un corso ragionevole alle nostre azioni e questa è la ragione per cui io ne parlavo prima con gli amici sono alquanto sospettoso di coloro che fondono la libertà sul libero orbito dell'elettrone per usare una sciagurata espressione di Pasquale Jordan e direi che adesso queste posizioni sono state un po' più raffinate da Sir Roger Peros ma continua Peros a non convincermi su questo punto. Grazie. Grazie.